Nel nord-est il tycoon è senza rivali. Ilari conquista quattro stati su cinque. A Sanders solo il Rhode Island. Terrorismo all'arme USA. L'ISIS prepara attacchi in Italia ma gli 007 italiani smentiscono. Il capo dell'intelligenza americana parla di cellule dormienti. Corea del Nord alvia il congresso del partito lavoratori. Il primo evento in 36 anni. Focus sulle mosse di Kim Jong-un. Weidmann. I paesi con debito elevato minacciano l'Europa. Secondo il presidente della Bundesbank le idee di Padoan sui rischi sono troppo ottimistiche. Camorra favorì ai clan. Indagato il presidente del PD campano Graziano. In manette l'ex sindaco di Santa Maria Capoavetere coinvolti funzionali comunali, imprenditori e professionisti. Sport. Vezzali chiude con l'argento nel mondiale a squadre. L'Italia al secondo posto nel Fioretto. Sconfitta dalla Russia.